3, 2, 1, vai! Ciao Tony H, siamo 3 paragrafutisti, Fabio da Frosinone, Alessandro da Latina, Angelo da Catania Siamo di servizio, ascoltiamo la tua musica, sei molto bravo, vai, molto forte, ciao Tony Grazie a tutti Frondisco su disco, la leggenda di una musica di frontiera Grazie a tutti